L'ultimo principe Francesco I, re per grazia di Dio, questo ponte per primo in Italia è stato eretto, inventato diretto da Luigi Giura, ispettore di Ponte Strade, con l'assistenza di, nell'anno del Signore bla bla bla. Vediamo cosa c'era scritto nella targa originale in marmo che i piemontesi distrussero nel 1860. Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, nato dal popolo di cui ha il governo, quindi napoletano, di quarta generazione, quando erano utilizzate per l'attraversamento di sicurezza, legate tra loro, per non recare danno al traffico dei veicoli e ai commerci, con documento di tutti, emulando la grandezza degli avi, comandò che fosse costruito con inusitata perizia, economica affinatezza costruttiva un ponte, sostenuto da catene di ferro poste ai lati, sospeso con incrollabile stabilità, che attraversò primo fra tutti, con i migliori auspici, insieme con i militari del Regno, consacrò l'eternità nel nome suo, 1832, eccetera, eccetera. Che cosa scompare su questa targa? Scompare il nome di Ferdinando II, scompare il Regno delle Due Sicilie e diventa Italia, scompare il fatto che il Sud era pronto tecnologicamente ad affrontare una sfida molto importante, scompare il fatto che il re in persona si impegnava a difendere anche con la forza il progresso del Regno delle Due Sicilie dalle ingerenze straniere, e scompare il fatto che lui realizza questo punto proprio per sostenere lo sviluppo del Sud. Quindi questo per dire che nel 1988 ancora questo silenzio era assordante, lo è ancora oggi, ma grazie al lavoro che stiamo facendo noi, Claudio e tante altre associazioni, si sta portando alla luce quella che era l'identità di un popolo, la memoria di un popolo, e finalmente quindi la giustizia verso coloro che hanno realizzato determinate cose. negatene, negatene aria, scusate.